Sono stati presentati a Senigallia, nel corso di un elegante appuntamento presso Paolo Brunelli Combo Gelateria, i progetti futuri di Bottega Teatro Marche. Fondata nel 2008 dal compianto Tommaso Paolucci, una delle maggiori personalità del teatro italiano, Bottega Teatro Marche ne mantiene viva l'eredità con il lavoro delle sue donne, Paola Giorgi, direttore artistico, e Agnese Paolucci, brand manager. Il valore aggiunto risiede in Tommaso Paolucci, che ha creato la compagnia Bottega Teatro Marche, ha creato molte cose nel teatro nazionale, e chiaramente il mio teatro è il teatro di Tommaso, anche se come forma artistica è differente, però come sostanza, come impatto con il teatro è quello. E Agnese, che è nostra figlia, chiaramente ha respirato quest'aria. Lei la sua creatività poi l'ha spinta in altre direzioni, però che mette comunque a frutto della crescita di Bottega Teatro Marche. Io sono molto contenta di essere all'interno di questo progetto e di portare le mie competenze nel settore appunto del design, all'interno della produzione teatrale. Qual è il ricordo che hai di tuo padre? Di un grande professionista e di un grande padre. Un progetto, quello di Bottega Teatro Marche, che nel tempo è cresciuto grazie al radicamento territoriale e all'esperienza maturata dal suo direttore artistico Paola Giorgi, che per anni ha collaborato come responsabile in relazioni esterne e istituzionali d'assistenza alla direzione artistica del Teatro Brancaccio di Roma, oggi centro di produzione. Attualmente Bottega Teatro Marche introduce un cambio di passo attraverso una serie di attività che hanno lo scopo preciso di rafforzare la produzione teatrale marchigiana. Ci saranno due nuove produzioni, ne cito una che è quella che ci impegna di più, è una nuova produzione, è uno spettacolo che si chiamerà Intorno al Vuoto, è una nuova produzione che parlerà di Alzheimer e quando si parla di questi temi si può parlare di welfare culturale, probabilmente è welfare culturale ma in una visione innovativa. Nel corso dell'evento il notissimo chef del gelato, cioccolatiere e musico Paolo Brunelli, eccellenza italiana del settore, ha deliziato i presenti con una degustazione di gelato gourmet. Ho presentato questo gusto in bianco, il gelato in bianco che è un gelato di un grande latte marchigiano con un leggero infuso di croste di formaggio e dell'olio di oliva della marca Anconetana per arrivare poi a uno zabaione al vino cotto, un'altra eccellenza degli ingredienti, delle tipicità marchigiane fino ad arrivare poi a un sorbetto al cioccolato che invece in qualche maniera è il mio amore, uno dei miei amori che è il cioccolato.